Mai è una barzelletta. Il problema è che non fa più ridere, perché il costo di tutte le stupidaggini che sentiamo ripetere lo pagano gli italiani. E allora qual è la notizia di oggi? La notizia di oggi è che è sempre colpa del PD. Insomma, se la Commissione europea boccia una manovra fatta male, che riempie di debiti gli italiani e non dà nessuna risposta neanche sulle promesse elettorali fatte dalla Lega e dai 5 Stelle, la colpa di chi può essere? Ma certo, del PD. Peccato che gli italiani alle loro bugie non sono più disposti a crederci e peccato che questa loro barzelletta non faccia davvero più ridere nessuno.